Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Io a Salerno non ci vado a vedere la partita, anche perché gli animi delle tifoserie non vorrei contribuire a riscaldarli ancora di più. Io auguro comunque all'Avellino di ottenere un risultato positivo, ci sono le condizioni, anche perché la sernità non è che sia questa grande squadra che soverchia talmente tecnicamente l'Avellino. Poi De Luca si deve rassegnare se l'Avellino ottiene un risultato tondo. Anche politicamente De Luca si deve rassegnare? No, politicamente il governatore non si rassegnerà mai, è un combattivo, è un tenace. Il governatore sa quello che deve fare.